Buongiorno, saluti, bentrovati. Oggi, 27 giugno 2021, domenica mattina, ad Amalfi si celebra Sant'Andrea. Il Sant'Andrea lo abbiamo anche in penisola sovrina. Alle nostre spalle c'è la di Sant'Andrea che risale al XVIII secolo. All'interno c'è una bellissima pala d'altare. Abbiamo messo il permesso a Donna Rosaria, che è la custode di questa chiesa, di poterlo vedere e rivederle ancora. Perché quello che sembra oggi un vicoletto, grazie Donna Rosaria, siete sempre cortesemente gentili che ci aprite le porte, ma il nostro dovere è quello di mostrare il vostro lavoro, una chiesetta cappellina sistemata e tenuta linda e pinta. Ma perché sta qua questa cappella di Sant'Andrea, questa chiesa di Sant'Andrea? Questo che a oggi sembra un vicoletto è la viabilità urbana del basso medioevo, alla fine del 400, agli inizi del 5. Da qui si passava per andare ad Amalfi. Questo luogo era ricco di una sorgente, quindi era un momento di tappa per chi veniva dal piano, per chi veniva dalla piana sorrentina in direzione a Amalfi. Due anni perché siamo legati al Covid che ci ha un po' interdetti. Noi siamo distanziati e con la mascherina. Perché questo Sant'Andrea qua? Perché insieme agli uomini viaggiavano le idee e quindi questo Somaro che andava sullo scaricatore, la marina dello scaricatore, per imbarcare ad andare ad Amalfi e tornare facendo tappa qua e fermandosi ha creato un luogo, ed è un luogo di luogo perché ai piedi della Madonna, bellissima questa, vediamo il Sant'Antonino nostro, esclusivamente Sorrentino, è accanto il Sant'Andrea. Sorrento e Amalfi insieme, i due santi patroni, ci portano in un'atmosfera medievale perché sia Amalfi che Sorrento erano ducati. Quindi questo abbracciarsi e adorare la stessa Madonna è una comunanza o un manifesto politico che vuole accomunare intenti e ridere. La cappellina grazie a Donna Rosaria è ricca di storia, è ricca di un volume che ne racconta tutte le sue fattenze, è ricca del restauro fatto da Don Francesco Iaccarino, attuale parroco di Sant'Agnello, ma precedentemente era morto. Quindi l'amore per questo è lui. La madre è stata restaurata nel suo periodo lucido. Nel periodo in cui lui era parroco. Donna Rosaria ci mantiene questo pavimento sempre lucido, oggi si sta lamentando come quella signora in cui lo abbiamo visitato improvvisamente per dire che la chiesa è involverata, ma noi vediamo dei marmi bellissimi, è un pavimento lucido. A ciò che è venuto qui per quanto le restate è bellissimo. Un organetto, intanto questa meravigliosa palla d'Altana la godiamo in tutta la sua bontà, in tutta la sua bellezza. Dalla croce di Sant'Andrea pende un pesce, lo vedete? In questa giornata gli Amalfiani ringraziano il loro padrone per averlo protetto da che cosa? Un'invasione di Barbarone. Un'invasione di Saraceni e vanno a ringraziarlo. Una grandissima tempesta che li allontano dalle coste. La tempesta allontano i Saraceni dall'assalto di Amalfi. In questa giornata loro li ringraziano nei tempi passati con le spaselle di pesce buttati nella chiesa. Questa è una giornata, una festa non secondaria, ma è la festività. Stasera ci collegheremo con il nostro pubblico di Positano News da Amalfi perché il santo, il busto argendio, uscirà per l'adrio, non per la processione perché ancora in questa coda di emergenza Covid... In questa coda di emergenza Covid... non...